Agricoltori in attesa che da Palermo arrivi finalmente un segnale positivo è che la politica sia in grado di evitare che alla fine siano loro a dover sanare i bilanci del Consorzio di Bonifica Agrigento 3, pagando l'acqua ad un costo maggiore rispetto a quello che era stato preventivato per il 2012 e il 2014. Al momento è questa la situazione, già da diversi giorni il Consorzio ha bloccato l'erogazione idrica a quanti non hanno proceduto al saldo. L'unica via d'uscita è legata all'approvazione di un emendamento presentato dai parlamentari Cascio, Cimine e Panepinto che prevede 3 milioni di euro per i consorsi. Onorevole Cascio, ma l'emendamento è in discussione oggi all'Ars? È all'ordine del giorno di questo pomeriggio, se si vota questo pomeriggio domani non lo so questo, questo dipende poi dai lavori d'aula. Tranne che quell'emendamento non venga giudicato ammissibile da parte del Presidente dell'Assemblea e quindi è chiaro che viene inserita nella legge di usare azione e bilancio la prossima settimana. È chiaro però che il tentativo che noi faremo è quello di farlo votare oggi. Per sostenere la discussione ed approvare l'emendamento oggi i sindaci e i rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole del comprensorio incontreranno il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Giovanni Arvizzone. Prima di tutto c'è da superare l'ostacolo da parte del Presidente dell'Assemblea di farlo votare, quindi di farlo diventare ammissibile e farlo votare. In aula io penso che la sensibilità dei deputati, almeno me lo auguro, ci sia per quanto riguarda il sollievo agli agricoltori. È chiaro che poi un incontro tra i gruppi politici va fatto, ma nel momento in cui noi abbiamo la certezza che l'emendamento verrà votato. Il blocco dell'erogazione dell'acqua in piena estate sta determinando gravi danni economici al comparto. Il finanziamento ai consorsi è l'unica soluzione al momento possibile. La pratica serve a far sì che non ci sia il conguaglio dei 4 centesimi che richiede il consorzio di bonifia. Nel senso che il prezzo dell'acqua risperebbe a 15 centesimi e quindi non ci sono i 4 centesimi di conguaglio. Ed è calcolato dall'annualità 2012 fino al 2015, i soldi basterebbero. Vi è anche un altro emendamento, gli altri 2 milioni di Euro, che riguarda invece i lavoratori dei consorsi di bonifia. Nel senso che per ora fanno 51 giornate di lavoro. Con questo emendamento si garantirebbero 78 giornate di lavoro, che è il minimo previdenziale per l'impresa. Chiaramente non per forza sono collegati questi due emendamenti. Sono due emendamenti diversi. L'emendamento principale su cui ci stiamo battendo è quello di far sì che gli agricoltori non pagano l'acqua più del dovuto.